E ora spazio agli aggiornamenti sui risultati elettorali dei ballottaggi in Puglia nelle principali città in cui si è votato. Urne chiuse alle 15 e poi è partito il conteggio dei voti. Ascoltiamo. A Biceglie, Angelo Antonio Angarano si riconferma sindaco per i prossimi cinque anni. Con il 60% dei consensi ha superato il suo sfidante, Francesco Spina, che si è fermato intorno al 40%. Angelo Antonio Angarano era la guida di una coalizione civica che nel corso degli ultimi 15 giorni si era arricchita della componente di Biceglie Davvero, la coalizione guidata a trazione PD da Vittorio Fata. Ascoltiamo i protagonisti di questa competizione elettorale. Ci aspettavamo che la città rispondesse a un modo di fare politica pacato, serio, che non cade nelle provocazioni ma mantiene lo stesso stile per presentare solo programmi e progetti per la città. Quindi questa è la vittoria di chi ci ha sempre creduto e ci ha sostenuto. Chiaramente adesso si apre una fase nuova per la nostra città, un certo modo di fare politica finalmente va in soffitta e c'è questo ricambio importante della classe dirigente che però dimostrerà, sebbene giovane e fresca, di essere capace, competente e determinata così come lo sono stati tutti i candidati che ringrazio in questa campagna elettorale. Da dove parte il suo secondo mandato? Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, quindi ricominciamo già da domani mattina a lavorare per la città e soprattutto l'estate alle porte c'è da risistemare la litorale e le nostre spiagge perché la bandiera blu ci responsabilizza tanto e dobbiamo presentarci ai tanti turisti che arriveranno a trovarci quest'estate. Quindi questa è la prima urgenza e poi ovviamente ci sono anche le scadenze del PNRR che incombono e noi abbiamo ottenuto tante risorse per questa città, sono opere importanti che cambieranno il volto della città e dobbiamo dimostrare da sindaci e soprattutto noi sindaci del sud di saper ben spendere quelle risorse e soprattutto di non perdere nemmeno un centesimo. Qual è il progetto più importante su cui punta per i prossimi cinque anni? I progetti sono appunto tanti perché davvero abbiamo messo in cantiere tante opere, quindi tra un po' partiranno i lavori di ristrutturazione del Ponte Lama, uno dei ponti borbonici più grandi in attività in Italia, ma ci sono opere da consegnare nell'immediato, la biblioteca comunale, il teatro Garibaldi, quindi c'è tanto lavoro da fare. Le opere su cui più teniamo però sono quelle relative alle nostre scuole e ai nostri impianti sportivi, la piscina comunale in primis. Sul lì ci impegneremo sin da domani mattina non soltanto a reperire risorse ma anche a dove ci siano già risorse e 10 milioni di euro già sono stati ottenuti a cantierizzare il più presto possibile. Questa vittoria è anche per l'apparentamento che c'è stato nell'ultima due settimane, come si comporrà la sua giunta? Sicuramente un'aggiunta di persone capaci, competenti. In questo secondo mandato c'è la necessità di spingere sull'acceleratore nella continuità amministrativa e nel rispetto ovviamente delle forze che ci hanno sostenuto. Sarà sicuramente un momento di confronto ma credo che in brevissimo tempo avremo già un'aggiunta pienamente operativa. Un risultato che un po' delude? No, no, assolutamente perché è il massimo che potevamo fare in queste condizioni, un risultato che fa chiarezza perché io ho fatto per tanti anni l'opposizione in consiglio comunale e avendo fatto tanti anni di opposizione in consiglio comunale ho interpretato la volontà di Bicegliesi che mi chiedevano sempre c'è questo problema, c'è quest'altro, nessuno ipotizzava che Angarano potesse essere addirittura ricandidato a un certo punto. Poi i Bicegliesi mi hanno dato la possibilità di vincere le primarie, adesso di vincere con me questa competizione elettorale. È chiaro che l'alleanza confata, che era quello che con me faceva l'opposizione ad Angarano, ha scompaginato il quadro, tanto è vero che a livello istituzionale l'opposizione subisce dall'atteggiamento di Fata una perdita di ben tre consiglieri comunali perché ci sono tre consiglieri che senza fare apparentamento passeranno con l'amministrazione di Angarano. E quindi questo è un po' l'unico aspetto negativo per il resto, molta molta serenità perché prendiamo atto che questa campagna elettorale ha voluto sancire i nostri programmi di rivitalizzazione, il commissariato di polizia, la ZES, l'acqua gratis, gli agricoltori, tutte queste cose che avevamo in mente non hanno dato ai cittadini quell'aspettativa tale da poter fare la scelta decisiva. Questi cinque anni saranno anche un momento di riflessione per una possibile ricandidatura oppure Spina dice basta? No, io quando dico basta dico basta, noi abbiamo un esempio storico diventato qualche volta anche un life motive simpatico perché io capisco nella passione politica è difficile lasciare, però per me l'ultima candidatura a sindaco certamente io l'ho fatto tre volte, quindi ho vinto tre volte le elezioni comunali e aspettavo che i cittadini facessero una scelta diversa l'hanno fatta questa volta, devo dire grazie comunque perché avere sempre questi 10.000 voti che ti sostengono in ogni momento non è facile, significa che c'è la volontà di Bicegliesi di sostenerti che ti vogliono bene ma non è sufficiente per vincere le elezioni e questo mi fa capire che è giunto il momento di guardare la passione politica attraverso quel ruolo nobilissimo e bellissimo del consigliere comunale che farò con un'attenzione diversa per quanto riguarda le mie energie, io non mi tiro indietro i cittadini vogliono che io stia all'opposizione, la farò, però certamente dovremmo pensare anche alle nostre attività ai nostri affetti perché la politica è anche qualcosa che ti toglie molto spesso e certamente non ti dà Solo 18 voti di distacco su 30.000 votanti hanno consentito a Vitantonio Petronella di indossare la fascia tricolore di sindaco di Altamura A capo di una coalizione di liste civiche di centro, Petronella ha conquistato all'ultima sezione scrutinata ben 15 seggi contro i sette del suo avversario Giovanni Moramarco che guidavano a coalizione di centrodestra con dentro Forza Italia Fratelli d'Italia Un risultato ovviamente subiudice con l'ovvia richiesta da parte del candidato sconfitto di controllare il conteggio dei voti per evitare che qualche errore materiale di calcolo possa aver compromesso la sua corsa a Palazzo di Città A Brindis infine si è imposto il centrodestra con Pino Marchionna che nella sua coalizione poteva contare anche su Forza Italia Fratelli d'Italia e Lega che si è imposta con il 53,99% dei voti Il suo sfidante Roberto Fusco a capo di una coalizione dal campo largo con PD e Movimento 5 Stelle si ferma al 46,01%